E ora parliamo di sicurezza stradale, lo facciamo con Bernardo Mennini, presidente di ACI Arezzo. Benvenuto. Buongiorno. Parliamo di Guida che ti guido, progetto di cui avevamo già accennato anche dentro la nostra trasmissione. Adesso siamo un po' ai bilanci di questo progetto. Sì, abbiamo fatto, diciamo, manca l'ultima tappa che è quella di Sansepolcro di fra pochi giorni, però abbiamo già un primo dato importante, abbiamo raggiunto, come dicevo prima, oltre 1500 ragazzi, quindi siamo andati direttamente nelle scuole con il personale ACI a fare delle lezioni, crediamo di averli anche interessati perché i nostri format hanno anche poi una verifica finale, cioè sui nostri formatori viene dato un voto dagli insegnanti se l'iniziativa è andata bene, se è piaciuta, quindi vogliamo essere anche severi in questo senso. L'obiettivo è quello di trasmettere un messaggio ai ragazzi che sia condiviso, perché tanto è inutile fargli una testa come un pallone, come si usa dire. Bisogna cercare di portarli davvero verso la condivisione di alcuni comportamenti corretti alla guida. È una cosa sbagliata quella di andare a fare la ramanzina. Dobbiamo agire prima, dobbiamo lavorare in maniera molto seria parlando con loro, cominciando dagli ragazzini, quelli che non hanno bisogno di prendere la patente, quelli che sono un po' una lavagna bianca, nella quale poter scrivere davvero le regole della sicurezza stradale, facendogli condividere i percorsi, come si attraversa una strada, come si lascia la precedenza a destra o a sinistra, e poi piano piano avvicinarsi a quelle che sono poi le regole di permanenza all'interno di una strada, in quel caso con la bicicletta, poi con... Certo, un progetto di sicurezza stradale che quindi ha interessato scuole di vario grado e bambini di varie età. Ai bambini fino a ragazzi diciamo un pochino più grandi, in diversi comuni della provincia, Terranova, Cortona, Arezzo, poi diciamo abbiamo preso in questo, ripeto, diverse centinaia di bambini e di ragazzi, quindi diciamo nel complesso, abbiamo coinvolto loro su queste tematiche, quindi anche cercando di farle avvicinare piano piano all'utilizzo nella strada, all'interazione, la mobilità nel senso generale, una parola oggi mobilità, tutti parli mobilità, la mobilità che cos'è? È la possibilità per qualunque mezzo di andare e muoversi all'interno di strade o percorsi ciclopedonali, questo è il concetto. Quindi sono regole che vanno acquisite, condivise, perché poi le devi far tue. Il problema qui non è dire hai sbagliato, è qui dire qual è il comportamento più corretto che mi salva, questo è il concetto, e salva anche gli altri. Su questo meccanismo noi cerchiamo di stimolare l'attenzione, perché tanto se tu riesci a seminare quando sei ragazzino, qualche cosa di buono, tu riesci domani che fai la patente per il motorino o la patente per l'auto a avere quel sedimento, quella base che hai acquisito nel corso degli anni. Se tutto questo ti manca, quando arrivi lì pensi solo a prendere il fogliettino, il cedolino e andare sulla strada. Noi ragioniamo con la logica per la quale se uno si laurea in medicina non lo puoi mettere subito a fare il chirurgo perché non sarebbe corretto. Quindi prendere la patente non è essere capaci di guidare sulla strada. Il lavoro che noi cerchiamo di fare anche nei nostri format e nelle nostre scuole guida, ora come dicevo prima fuori onda, a Montevarchi apriremo un'altra scuola guida di ACI, nella quale noi facciamo dei format anche di preparazione alla guida perché dare la patente è importante, i quiz e quant'altro sono fondamentali, quelli sono la prima base, poi esiste anche la possibilità di dover provare cosa si è capace di fare sulla strada prima di andarci davvero. Questo è lo schema sul quale secondo me noi riduciamo, secondo l'impostazione nostra, la percentuale di errori perché poi quando ti butti sulla strada non conosci come si evita un ostacolo, come si guida su di una strada bagnata o su di una strada ghiacciata e quindi te la cavi un po'. Il problema è che rischi che poi il test lo fai davvero. Noi il test lo facciamo su una realtà pilotata, protetta. Quando il test lo fai sulla strada rischi di farti male te e di fare male agli altri. Noi vogliamo fare un lavoro prima, questo è il lavoro. Pertanto su questo noi diciamo anche che tutto il lavoro che viene fatto anche dagli altri, perché voglio ricordarlo, ci sono la polizia municipale, c'è la polizia, ci sono i carabinieri, ci sono la guardia di finanza, ci sono tantissimi soggetti che parlano di sicurezza strale e ben vengano, perché questo lavoro non può essere un lavoro solo di uno, è un lavoro di corale e quindi più si parla di questo tema, più si riesce a parlare con questi ragazzi ai quali trasmettiamo un seme che noi auspichiamo germogli nel crescere delle varie tappe, motorino e poi auto, perché in quella maniera avremmo creato un'autonomista più cosciente di quella che è la regola che serve a lui per proteggere se stesso e proteggere gli altri. È un atto tra virgolette di virtuoso egoismo quello di comportarsi bene alla guida, perché fa bene agli altri come conseguenza, ma fa bene a te stesso, perché un incidente ti può creare danni fisici, ma anche danni di altro genere, problemi penali, problemi civili, danni e dolore incredibile. Questo è il concerto sul quale lavoriamo. È chiaro, anche questo vuol dire lavorare per la sicurezza stradale, far capire ai ragazzi quali possono essere poi le conseguenze, anche quando non sono così drammatiche, però questo è forse la parte più difficile. Sì, perché tante volte quando sei ragazzo pensi, come tutti noi siamo stati, pensi di non avere nessun limite, quindi sai vai lì, non succede niente, invece... Hai il mondo in tasca. Il mondo in tasca. Poi invece succede un problema e dopo il mondo in tasca ti rendi conto che non ce l'hai e le conseguenze te le devi vedere, sia quando sei minorenne e poi te le porti dietro quando sei maggiorenne, perché le conseguenze te le porti dietro. Poi dobbiamo fare un ragionamento forte sul cellulare. Il cellulare purtroppo è la causa primaria di incidenti. È utile girare intorno. Cioè tutto il resto è... ma il cellulare è devastante. Quindi un grande lavoro è anche per dire che il cellulare alla guida non si usa. È certo. Perché tanto lo fai per te, non lo fai per un fatto morale. Tu devi... hai tutto il sistema infotainment, come si dice oggi, nella macchina, poi vocalmente oggi puoi far tutto, fallo così. Non usare, non chattare. Salva te stesso e salva gli altri. Noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, Presidente, però ricordiamo ci sono anche degli appuntamenti pratici. Sì, ci sono proprio... sì, proprio anche perché abbiamo organizzato il cart in piazza nei primi giorni di maggio, poi pubblicizzeremo tutto l'evento. Avremo il 10-11 di maggio nel piazzale dello stadio, faremo provare ad alcune scuole dei go-car elettrici, quindi per testare anche un po', diciamo, interessare da questo punto di vista. Poi continuiamo con i 100 anni dell'Aci sempre con iniziative volte alla comunicazione su questo, quindi avremo anche un giorno per noi e poi altre iniziative che ci accompagneranno qui a fine anno per parlare di sicurezza stradale e dell'Automobile Club d'Italia Sede di Arezzo. Quindi un progetto annuale che è veramente molto sfaccettato e molto articolato. Grazie al Presidente Bernardo Menini per essere stato con noi oggi a raccontarcelo. Grazie. Grazie. Grazie.